numero 5 questa è una maca con vista che il tuo gatto amerà si attacca facilmente alle finestre e offre al tuo gatto un posto accogliente e stabile per dormire e rilassarsi è veramente comoda e poco ingombrante la superficie di appoggio è rialzata per garantire al tuo gatto una visione ottimale sia in casa che all'esterno il fissaggio è pratico e sicuro anche ad altezze elevate stabile grazie a corde e ventose tessuto resistente alle macchie è facile da pulire se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione numero 4 una maca molto comoda che si attacca alla finestra perfetta per i gatti che amano guardare le cose dall'alto non sono necessari attrezzi speciali per montarlo sostiene un carico massimo di 20 kg grazie alle potenti ventose e alle corde d'acciaio è ideale per vetri finestre e porte finestre il tessuto ha due lati molto resistenti un lato invernale e lato estivo la copertura lavabile a 30 gradi se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione numero 3 il punto forte di questa cuccia per gatti è sicuramente il design sembra una bella mensola moderna si attacca facilmente alla finestra e offre al vostro gatto una superficie morbida e stabile da cui guardare il mondo esterno con curiosità o semplicemente fare un pisolino ha un'imbottitura confortevole con schiuma ortopedica il rivestimento è rimovibile e lavabile in lavatrice se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione numero 2 questa amaca è davvero ottima per chi non vuole occupare troppo spazio si tratta di un ripiano imbottito e coperto che può essere fissato in modo sicuro alle mensole e ai davanzali delle finestre facile da montare e robusto i gatti amano sedersi in questa amaca guardare il panorama e godersi il sole che entra dalla finestra in descrizione trovi il link su amazon di questo prodotto numero 1 questa amaca è un bellissimo letto che si attacca al calorifero che i vostri gatti ameranno soprattutto nelle giornate fredde è un rifugio perfetto per dormire e riscaldarsi un'amaca dove si sentono sicuri e protetti confezionato in un tessuto super morbido e adatto agli animali domestici è adatto a diversi radiatori grazie ai supporti regolabili ha un robusto telaio in metallo il tessuto è rimovibile e lavabile in lavatrice puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione